Esiste un episodio molto importante della biografia di Mahometto perché ci consente di capire per quale motivo gli ebrei siano in assoluto il gruppo più detestato da parte dell'Islam. In questa fase siamo ancora alla Mecca, quindi Mahometto non è ancora diventato violento, ma tuttavia attorno a Mahometto ci sono molte tensioni, principalmente perché la sua stessa comunità di la Mecca non lo riconosce come profeta. Spesso questa comunità di la Mecca dice a Mahometto che si tratta soltanto di un falso profeta, di un bugiardo, di un poeta posseduto, esattamente come dice il Corano ancora oggi ricorrono spesso queste parole. A questo punto i Quraysh, che sono l'esatta comunità di provenienza di Mahometto, una comunità di pagani, decide di voler affrontare una volta per tutte questa faccenda. Mahometto è un profeta falso oppure un profeta vero? E per fare questo i Quraysh decidono di chiedere aiuto a dei rabbini che si trovano al nord, perché i rabbini in questo momento sono le persone più dotte, più istruite e come dice la biografia stessa di Mahometto conoscono molto bene la Torah, quindi sicuramente sapranno darci qualche indicazione valida, sicuramente sono le persone migliori a cui chiedere. A questo punto due uomini della comunità dei Quraysh partono e vanno a Medina, che in questo momento si chiama ancora Yathrib, non si chiama Medina. Si chiama Yathrib proprio perché è una comunità ebraica, è una città ebraica e deve ancora essere conquistata ovviamente da Mahometto e dai musulmani quando inizia la Jihad. Quindi possiamo dire che due Quraysh vanno a Yathrib e chiedono aiuto ai rabbini. I rabbini con molta tranquillità rispondono che esiste un test che possono fare a Mahometto. Se Mahometto sarà in grado di rispondere correttamente a questo test, a queste domande, si tratta di un vero profeta e quindi seguitelo, dicono i rabbini ai Quraysh. Se invece non sa rispondere correttamente a queste domande, si tratta di un villano, si tratta di un bugiardo. A questo punto i Quraysh, quindi molto contenti, tornano alla Mecca e sottopongono a Mahometto questo test. Questo test consiste semplicemente in tre domande brillanti, come vedremo in seguito, e fondamentalmente i rabbini dicono ai Quraysh. Chiedetegli dei giovani uomini dei tempi antichi perché alle loro spalle c'è una bellissima storia. Due, chiedetegli del bicorne. Il bicorne da questo momento in poi la tradizione islamica lo chiamerà Dhulqarnayn e se guarderete al Qurtubi o Ibn Issach troverete che in inglese è stata fatta una sorta di parafrasi per rendere questa espressione che è un bicorne e spesso viene anche detto persona come se colui che siede su due epoche oppure colui che siede su due punti diversi della terra. Ad ogni modo noi, per semplificare, lo chiameremo semplicemente il bicorne. E infine, terza domanda, chiedetegli dello spirito. Se saprà rispondere a queste tre, sicuramente si tratta di un profeta vero, altrimenti è un bugiardo. I Quraish, quando sottopongono questo test a Mahometto, scoprono che in realtà Mahometto non solo non sa rispondere, ma dice «ve lo dico domani». Ed è molto interessante scoprire che a questa altezza della storia tutti i tafsire e tutti i biografi aggiungono anche un dettaglio. Dicono che Mahometto ha risposto «ve lo dico domani», ma è andato via senza dire «inshallah». Più tardi scopriremo perché questo è rilevante alla fine del video. A questo punto, Mahometto, il problema è che non si presenta il giorno dopo con una risposta e nemmeno una settimana dopo e nemmeno dieci giorni dopo. La frustrazione quindi in lui sale molto, è molto a disagio, sta effettivamente soffrendo molto e attorno ovviamente a Mahometto, se prima c'era della derisione, ora ce n'è ancora di più e se prima c'era della tensione, adesso ce n'è ancora di più. Improvvisamente dopo quindici giorni, quindi dopo due settimane, Mahometto riceve da parte dell'Arcangelo Gabriele, da parte di quello che l'Islam considera l'Arcangelo Gabriele, bisognerebbe poi vedere effettivamente di chi si tratti, riceve la Sura 18 e un versetto che finirà poi nella Sura 17 e quindi con questi tre passaggi abbiamo le tre risposte che dà Mahometto per quanto riguarda il test degli ebrei. Per quanto riguarda i giovani uomini provenienti dall'antichità, che hanno una bella storia, una storia affascinante alle spalle, Mahometto nei versetti dal 9 al 23 della Sura 18 fa narrare ad Allah una storia dove ci sono degli uomini chiusi in una caverna che vengono praticamente murati vivi e vengono risvegliati soltanto molto tempo dopo. queste persone hanno anche probabilmente un cane. Fondamentalmente Mahometto qui sta facendo raccontare ad Allah, sta dando come risposta alla prima domanda la leggenda cristiana dei sette dormienti di Efeso, che è una leggenda cristiana secondo la quale ci sono stati sette cristiani che per sfuggire ad una persecuzione si sono chiusi in una caverna, in una grotta, sono poi stati murati vivi, ma Dio non ha voluto farli morire e quindi 200 anni dopo, quando è stata riaperta questa caverna, in realtà si scopre che avevano dormito per 200 anni, una leggenda anche abbastanza irrilevante, che peraltro Mahometto non racconta nemmeno con il massimo della precisione, perché i versetti si concludono dicendo che erano tre, poi il quarto era il cane, poi erano cinque, il sesto era il cane, erano sette, l'ottavo era il cane, comunque sia Allah lo sa bene e pochi altri insieme a lui. Per quanto riguarda la seconda domanda, ovvero il bicorne, ovvero Zul Karnain in arabo, Mahometto risponde tramite Allah nel versetto 83 della Sura 18 che si tratta di Alessandro Magno, perché inizia a far narrare ad Allah alcune imprese di Alessandro Magno e nel frattempo fra un'impresa e l'altra ci regala anche il concetto meraviglioso di terra piatta che avevamo già visto in un altro video, secondo questo concetto il sole tramonta in una pozzanghera. Dopodiché continua a raccontare che Alessandro Magno ha voluto combattere anche contro Gog e Magog e fondamentalmente quindi la sua risposta rispetto al bicorne è Alessandro Magno. Per quanto riguarda lo spirito siamo nella Sura 17 al versetto 85, Mahometto dà una risposta abbastanza strana perché Allah dice ti interrogeranno a proposito dello spirito, rispondi lo spirito procede dall'ordine del mio Signore e non avete ricevuto che ben poca scienza a riguardo. Ma lo spirito in inglese forse si capisce meglio, è come se Mahometto stesse dicendo che è un prodotto di Dio, che però non è una risposta, nel senso che se una persona è credente anche l'albero che io ho in giardino è un prodotto di Dio, quindi secondo me non ha proprio capito la domanda e poi aggiunge e voi ne sapete ben poco. Ok, queste sono le risposte che dà Mahometto e sono tutte e tre sbagliate. Per poter affermare che queste tre risposte siano tutte e tre sbagliate noi dobbiamo capire quale sia il criterio che usa l'ebraismo, perlomeno in questa fase storica, per individuare correttamente un vero profeta e saperlo distinguere da un falso profeta o da un bugiardo. Per capire questo noi troviamo il criterio che usa l'ebraismo proprio nella Bibbia. Questa è la Bibbia che hanno a casa i cristiani, che è ovviamente identica alla Bibbia che hanno a casa gli ebrei, ma c'è un dettaglio che fa la differenza ed è il libro di Daniele. Il libro di Daniele io ce l'ho nella macro sezione che si chiama i libri profetici, ma l'ebraismo non considera Daniele un profeta, tant'è che Daniele non compare nella Tanakh nei libri profetici, ma compare negli scritti storici. A questo punto quindi dobbiamo capire che cosa è successo nel libro di Daniele e perché l'ebraismo ha deciso di metterlo, di non considerarlo un profeta come invece fa il cristianesimo. Innanzitutto all'inizio del libro di Daniele si parla di tre giovani uomini di cui ho segnato i nomi che sono Sadrach, Mesach e Abdenego. Questi tre giovani uomini dei tempi antichi hanno una bellissima storia alle spalle perché Nabucodonosor vuole gettarli in una fornace per farli perire con il fuoco, ma quando questi tre giovani uomini dei tempi antichi sono fra le fiamme iniziano a passeggiare tranquillamente, fondamentalmente restano illesi rispetto al pericolo delle fiamme. E quindi questa è già una bella storia di giovani uomini dell'antichità che hanno appunto questa storia affascinante alle spalle. Se una persona continua a leggere il libro di Daniele a un certo punto scopriamo che Daniele ha una visione. In questa visione c'è un ariete che combatte contro un altro animale, un capro e dopo aver raccontato la sua visione Daniele viene raggiunto da Gabriele e Gabriele gli spiega la visione e Gabriele dice a Daniele che il Bicorne non è nient'altro che una metafora per indicare il re di Media e il re di Persia, ovvero due re dello stesso grande regno. Quindi il Bicorne indica questi due re. Però, c'è un però, a questo punto sembrerebbe aver trovato già le prime due risposte che Maometto non ha saputo dare. Ma, come abbiamo visto prima, Daniele non è un profeta secondo l'ebraismo e quindi ci dobbiamo chiedere per quale motivo. Per fortuna se l'è chiesto qualcun altro anche prima di noi, esistono dei siti ebraici dove le persone possono fare delle domande, ricevere delle risposte da parte di studiosi ebraici. E per quanto riguarda Daniele ci sono persone che hanno chiesto, come è possibile, ha una così bella visione? Come mai non lo consideriamo un profeta? E gli studiosi ebrei rispondono che per essere considerati profeti, secondo l'ebraismo, non basta soltanto avere una visione, ma questa visione deve essere accompagnata anche da una cosa che si chiama in ebraico Ruach HaKodesh. Se doveste trovare la traduzione Spirito Santo, sappiate che è corretta come traduzione, ma non ci deve ingannare perché dal punto di vista del cristianesimo la stessa parola è usata per definire un'altra cosa. Quindi adesso io parlerò soltanto di Ruach. Questo Ruach è praticamente un'ispirazione divina che viene data ad una persona che diventa profeta nel momento in cui raggiunge uno stato trascendentale, ma è nel pieno possesso dei propri sensi e quindi decide subito, consciamente e consapevolmente, di dire qualcosa o di fare qualcosa o di prendere una determinata decisione nel pieno possesso dei suoi sensi. Come spiegano questi studiosi ebrei, Daniele non si trova nel pieno possesso dei suoi sensi quando riceve questa visione. Perché? Perché non ha ricevuto il Ruach, perché quando questo Ruach arriva e interviene la persona non è semidormiente come Daniele. Se leggerete il libro di Daniele si capisce che ha una visione che è quasi notturna, che è come più un sogno, è una dimensione onirica, non è una dimensione in cui Daniele si trova nel pieno possesso dei suoi sensi. Per questo motivo quindi Daniele non è un profeta, non solo, ma abbiamo anche la terza risposta che Maometto non ha saputo dare. Ruach HaKodesh era ciò che gli ebrei avevano chiesto a Maometto quando gli hanno detto, quando hanno detto i Quraysh, chiedetegli dello spirito. Questo è lo spirito che fa sì che una persona sia profeta. Ovviamente la tecnica da parte degli ebrei è particolarmente brillante, sappiamo che Maometto le ha sbagliate tutte e quindi per riassumere possiamo dire che alla prima domanda i giovani dell'antichità che hanno una bellissima storia alle spalle, Maometto risponde i sette dormienti di Efeso che non c'entra assolutamente niente con i tre giovani sopravvissuti alla fornace del libro di Daniele. Per quanto riguarda il Bicorne, Maometto risponde Alessandro Magno che non c'entra assolutamente niente con i re di Media e di Persia e per quanto riguarda lo spirito, Maometto risponde questa frase che non è neanche pertinente, non dice nulla e ovviamente tutto questo non c'entra niente con Ruach HaKodesh. La tecnica, la tattica degli ebrei è particolarmente brillante perché secondo me esclude la probabilità che una persona ne azzecchi solo una o forse solo due su tre, nel senso che il libro di Daniele è tutto lì, quello che chiedevano gli ebrei è tutto, è la stessa storia, quindi se ne sai una vuol dire che in automatico sai anche per forza tutte le altre, non puoi saperne soltanto una, le altre no. E quindi Maometto è stato scoperto, Maometto è stato scoperto, gli ebrei sono quindi i responsabili di questa esposizione della falsità di Maometto e a questo punto i Quraysh non hanno più assolutamente nessuna pazienza nei confronti di Maometto, nei confronti dei primi musulmani. E cosa accade? Accade che Maometto va nel panico e come ogni persona quando si ritrova nel panico inizia a commettere un errore dietro l'altro ancora più di prima e ancora più grave di prima. Ad esempio ci sono dei musulmani che a un fa tornare, lui stesso libera degli schiavi che sono ragazzini deboli, analfabeti, gli fa dire la Shahada e inizia a considerarli i primi musulmani. Dopodiché abbiamo l'incidente dei versetti satanici e poco dopo ancora muoiono sia Khadija che lo zio di Maometto che fondamentalmente negli ultimi anni gli avevano sempre dato una sorta di protezione, nel senso che ammorbidivano queste tensioni che a livello sociale Maometto scatenava nella propria comunità, ci mettevano una buona parola, chiedevano di essere pazienti. Nel momento in cui anche Khadija muore e anche lo zio muore, Maometto decide di andare a Medina. E questo è il momento in cui l'islam viene fondato. Il calendario islamico inizia con la jihad, il calendario islamico inizia con Maometto che decide di andarsene dalla Mecca perché a causa degli ebrei è stato scoperto, è stato esposto. E sappiamo anche che da Medina in poi, che infatti non si chiama neanche Medina in questa fase, ma si chiama ancora Yathrib, inizierà a trucidare gli ebrei. Per questo motivo possiamo affermare che l'islam nasce con il seme dell'antisemitismo dentro sé. L'islam nasce a causa dell'antisemitismo di Maometto perché Maometto a questo punto detesta con tutto se stesso gli ebrei perché l'hanno esposto come falso profeta, tra l'altro con una tecnica brillante, con un divario fra il cozzietto intellettivo abbastanza importante, fra un protagonista e l'altro protagonista di questo episodio. Per questo motivo l'islam è fortemente antisemita perché l'islam nasce a causa dell'antisemitismo di Maometto. E questo è molto importante ricordarlo ancora oggi perché se si osserva la jihad che ogni tanto tace, se si osserva la condizione delle donne che sicuramente può essere migliorata e ci sono dei margini, si intravedono degli spiragli ogni tanto di miglioramento, per quanto riguarda l'antisemitismo islamico, questa speranza io personalmente non la trovo tanto, anzi io ogni settimana trovo notizie di ebrei uccisi perché sono ebrei. Quindi secondo me è molto importante ricordare questo e ricordare anche un'altra cosa. Maometto di carattere è una persona molto categorica, è una persona molto assolutistica. Se una persona di una determinata comunità pagana ha fatto un torto a Maometto, lui cercherà vendetta contro tutta la comunità e condannerà tutta quella comunità di appartenenza. E questo è il motivo per il quale al fatica finisce con la frase che tutti gli ebrei ogni giorno su di essi c'è l'ira perpetua ed eterna di Allah. Questa preghiera finisce così per questo motivo, perché l'ira di Maometto diventa l'ira non solo contro quei rabbini di Yathrib che hanno proposto questo testo e che quindi l'hanno esposto, ma contro tutti gli ebrei in eterno. Questa secondo me è una delle problematiche, è uno dei problemi più grandi dell'Islam, è proprio l'antisemitismo eterno. Non saprei come toglierlo dall'Islam, è difficilissimo che accada. E questo è il motivo per il quale, come avrete notato, insisto un po' con l'antisemitismo islamico. Volevo lasciarvi con due scenette abbastanza simpatiche per chiudere questo videone. Quando gli ebrei vedono arrivare Maometto a Medina, loro sanno come è finito l'episodio del test e per questo motivo si avvicinano a Maometto e se vi ricordate riguardo lo spirito lui risponde lo spirito è un prodotto di Dio e voi ne sapete ben poco. E gli ebrei gli chiedono quando lei ha detto che le persone ne sanno ben poco, intendeva noi o intendeva la sua gente? Questa è uno scherzo, è una battuta che fanno gli ebrei a Maometto che il biografo ha inserito perché non ha capito come sono andate le cose. Un biografo che ha capito come sono andate le cose non doveva inserire questa battuta. Infine, vi ricordate che Maometto quando gli viene è dato questo test, non sa cosa rispondere, dice ve lo dico domani e va via e va via senza dire inshallah, che è un po' banale perché inshallah vuol dire se Dio vuole, se Allah vuole un'esortazione che si fa, però in questo momento i tafsir e i biografi lo scrivono come se soltanto aver non detto inshallah, soltanto non aver evocato Allah, basti a giustificare il fatto che Maometto non sa cosa rispondere, non ha le risposte a questo test e per questo motivo ai versetti 23 e 24 della Sura 18 Allah dice non dire mai che domani farai qualcosa senza dire inshallah. non vi sembra un po' banale? Ringrazio Mariangela che qualche tempo fa via mail mi aveva detto, mi aveva dato lo spunto per affrontare questo argomento e vi ringrazio tutti se avete guardato fin qui, ciao a presto!